Allora ragazzi, ciao a tutti, oggi sono molto incazzato per il semplice fatto che... Fatemi mantenere la calma. Per la maggior parte delle persone, o meglio, per una parte, oggi uscirà Red Dead Online, per gli altri invece, un cazzo niente! Sì, perché dovete sapere che oggi sarà disponibile solo per le persone che hanno acquistato la Ultimate Edition, che volevo acquistare anche io in realtà, ma che purtroppo, causa indisponibilità, non ho potuto acquistare. Rockstar Games, vuoi mi i soldi? Guarda, vuoi mi i soldi? Tieni, tieni, eccoli qua i miei soldi per la Ultimate Edition, va bene? Prendili! Cioè, ma come cazzo ti permetti di fare una cosa simile? Poi un giorno, neanche un'ora di attesa, dici, vabbè, un'ora, dai, è accettabile. Un giorno di attesa per chi ha preordinato il gioco! Io capisco la vostra manovra di marketing, va bene? Non volete far avere Red Dead Online oggi a tutti, va bene? Io non dico che lo dovete fare avere a tutti, dico che lo dovete fare avere a me! Non me ne frega nulla degli altri, gli altri non sono nessuno, io sono fanapton371. Io sponsorizzo i vostri giochi da anni, grazie a me! Vendete più copie dei vostri giochi! E un giorno, chi se ne frega, ci gioco domani, dai, è giusto che la gente che ha speso di più abbia Red Dead Online un giorno prima! Ma capisci? Noi che dici un'ora, un giorno prima! È una truffa! Rockstar Games, dovrebbe chiamarsi Truffar Games! Allora, penso sia inutile dire che tutto quello che ho detto finora è un troll, ma però sono curioso di vedere quante persone commenteranno qui sotto, dicendo Ma come ti permetti, ma chi sei? Bla bla bla, senza aver visto tutto il video, avendo visto solo i primi 30 secondi Ammazzatevi! Allora, che io volessi acquistare la Ultimate Edition è vero, perché il giorno in cui sono andato a ritirare il gioco dal GameStop, il primo giorno, ho detto Non è che magari avete una Ultimate Edition che vi avanza? Col cazzo! E quindi, vabbè, mi sono dovuto accontentare della versione standard che era quella che ho prenotato, quindi, non è che io abbia motivo di lamentarmi in realtà, però, effettivamente, la Ultimate Edition era quella che volevo. In ogni caso, Red Dead Online sarà disponibile da oggi per le persone che hanno acquistato la Ultimate Edition, da domani per le persone che hanno preordinato il gioco e da dopodomani per le persone che l'hanno acquistato nel primo weekend, dopodiché sarà disponibile il giorno dopo per tutti. Ciò che verrebbe da pensare a tutti e ciò che ho pensato anche io, in realtà, all'inizio è ma questa pratica non è abbastanza scorretta, pur essendo una mera manovra di marketing? Beh, sì, ma no, per il semplice fatto che si tratta di qualche giorno. Capirei avessero detto, quelli che hanno comprato la Ultimate Edition accedono oggi alla beta di Red Dead Online, perché vi ricordo, è una beta, invece, quelli che l'hanno preordinato, non quelli che l'hanno acquistato dopo, quelli che l'hanno preordinato potranno accedere un mese dopo, quello sarebbe stato scorretto. Potrebbe ancora essere stato sensato dire, quelli che hanno preordinato il gioco accedono già ora, quelli che invece l'hanno acquistato dopo accedono tra una settimana, sarebbe ancora ancora andato bene, perché ricordo che comunque è una beta e questa è la cosa principale, perché essendo una beta, Rockstar si può permettere di fatto di fare queste cose. Trattandosi di una beta, infatti Rockstar Games ha detto, a seconda della versione acquistata del gioco, i giocatori verranno invitati man mano alla beta di Red Dead Online. Invitati quindi, non so come funziona il sistema di invito, sembra tanto una cosa molto ammatoriale, però, boh, a quanto pare... la gente apprezza. Parliamoci chiaro, per una persona come me che smanetta molto all'interno dei giochi Rockstar e che ha smanettato un sacco su GTA Online e che ci ha giocato veramente un sacco essendo appassionato, potrebbe essere anche una cosa positiva, ma solo singolarmente per me, se quindi l'invito fosse inviato solo a me e a poche altre persone. Se l'invito è inviato a molte persone, anche che hanno acquistato il gioco, ma che non fanno video su YouTube, non che fare video su YouTube ti elevi ad un livello più alto, ma magari, sai, ti eleva ad un livello più vicino ad un giornalista, per così dire. Oppure se ciò fosse stato fatto solo per le testate giornalistiche molto grandi, non dico per me, mi pare una cosa poco professionale, ecco. Ripeto, quello degli YouTubers era un esempio, io non mi credo assolutamente allo stesso livello di testate giornalistiche che hanno milioni e milioni di utenti lettori. Dico solo che, se l'accesso fosse stato reso disponibile solo per persone con magari milioni di iscritti, e non dico a me che ho 200.000 iscritti, ma magari a persone con milioni e milioni di iscritti, e testate giornalistiche specializzate, come ho detto, sarebbe stato un conto, ma in questo modo, come ho detto, mi sembra poco professionale la cosa. Il problema è che, non avendolo detto prima dell'uscita, potrebbero aver venduto meno copie della Ultimate Edition rispetto a quante ne avrebbero vendute, dicendo guardate, la Ultimate Edition permetterà l'accesso a Red Dead Online prima degli altri. Ok, un giorno prima, quindi magari molti non l'avrebbero acquistata per quel motivo, però sicuramente avrebbero venduto di più. C'è da dire anche un'altra cosa, ormai nessuno, ma veramente nessuno, si aspettava l'uscita di Red Dead Online per novembre, e devo dire che ormai siamo arrivati alla fine, e siamo lì, cico, cico. E io ero lì fiducioso a dire, no, aspettate la fine di novembre, vedrete che uscirà. Poi, una volta che ho avuto ragione nel dare fiducia a Rockstar Games, grazie, ed è stato bellissimo vedere la gente che diceva, ecco, lo sapevo che non sarebbe uscito per la fine di novembre Red Dead Online, perché era una cosa imprevedibilissima da dire, non ci avrebbe mai pensato nessuno. Capisco se ci fai un discorso dietro, non lo so, dici che è scorretto, anche se ormai non è una novità, dici che cazzo ne so, io ho pagato per avere Red Dead Online tale giorno o tale mese e poi non l'ho avuto. Però, cavoli, non mi aspetto, uscirà per novembre. Che cazzo di senso ha? È una cosa proprio imprevedibile, eh. Rockstar Games, con le sue manovre di marketing, in ogni caso è sempre stata geniale, fatta eccezione per quest'ultimo periodo. Ricordo, infatti, che la scorsa settimana, accedendo ogni giorno su GTA Online, un giocatore poteva arrivare a ricevere addirittura 1.350.000 dollari di bonus. Bonus non indifferente che probabilmente ha riportato qualche persona su GTA Online, o forse anche più di qualche persona, il problema è che queste qualche persona abbandoneranno dopo poco tempo GTA Online nuovamente. E questa non è una manovra di marketing di per sé, è semplicemente un regalare soldi per accattare giocatori. Per quanto riguarda Red Dead Online, invece, questa manovra di marketing è stata limitata a pochi giorni, perché probabilmente, estendendo l'attesa a più giorni, sarebbe stata molto scorretta come manovra. Quindi in questo caso Rockstar Games è stata limitata molto probabilmente per una questione di etica verso gli utenti. Che per carità, da una parte è sicuramente positivo, ma dall'altra, beh, fa risultare la manovra di marketing un po' scialba. Sembra tipo stato fatto per dare il contentino alle persone che hanno acquistato le ultime iteration e basta. Parlando di Red Dead Online, qualche tempo fa, parlo di addirittura forse 10-15 giorni fa, non vorrei sbagliarmi, è stato permesso da alcuni giocatori, non in via ufficiale, ma perché ci sono riusciti loro, di giocare alla introduzione. Mi ricordo anche, infatti, che era uscito in una schermata leak, ma nessuno ha postato video né altro, perché, beh, il rischio è molto elevato dopo che Rockstar Games ha multato Trusted Reviews per un milione di dollari per aver pubblicato informazioni riservate riguardo Red Dead Redemption 2. Cosa interessante è che emerge da un'intervista fatta a settembre a Rockstar Games è che loro in quel periodo stavano ancora lavorando ad alcune scene riguardanti Red Dead Online. Quindi questa cosa può significare due cose. Uno, Rockstar Games è diventata molto efficiente, cosa che potrebbe essere probabile, ma non così tanto. Due, Rockstar Games si prende all'ultimo. E non so perché, ma questa opzione vi suona molto più probabile. Un'altra cosa di cui voglio parlare è l'uscita del gioco su PC. Allora, ora, so che Red Dead Redemption è un caso a parte, perché il primo Red Dead Redemption è stato un'esclusiva console, ma secondo me, in questo caso non sono sicuro al 100%, però secondo me è molto probabile che Red Dead Redemption 2 uscirà anche su PC. E i motivi, beh, sono ovvi. Un'altra cosa di cui sto sentendo parlare che sinceramente mi dà fastidio è la possibilità di un'eventuale uscita di un DLC single player. Ora, perché a poco più di un mese dall'uscita del gioco devi stare a pensare già a un DLC single player? Perché? E questo è un riferimento a un'eventuale uscita di un DLC single player. E questo potrebbe significare che questa cosa sarà collegata a un DLC single player. E che palle! Basta con ste speculazioni da quattro soldi. Anche perché, secondo me, un DLC per la storia non uscirà mai. Sarò la persona più contenta del mondo se mi sto sbagliando, ma non credo. Questo perché Red Dead Redemption 2, giocone, capolavoro, tutto quello che volete, per Rockstar Games è stato, in gran parte, solo un trampolino di lancio per Red Dead Online. GTA V è stato lo stesso, eh. La storia di GTA V, infatti, è stato un gran capolavoro. Il single player di GTA V è un gran capolavoro ed è una base per GTA Online, per quanto riguarda la mappa. Ma di per sé, la storia di GTA V e tutto il comparto single player di GTA V è stato un trampolino di lancio per GTA Online. Il vero successo di GTA V, infatti, è... GTA Online! È pur vero che Rockstar Games ha ammesso che continuerà a fare giochi single player, ma la verità è che il single player dei suoi giochi, sì, porta un sacco di persone, sì, è apprestato da molte persone, ma proprio per questi motivi diventa un trampolino di lancio per la versione online del gioco. Ed è per questo, anche secondo me, che non uscirà mai un DLC per la storia, come è stato per GTA V. Un'ultima cosa che voglio dire è che in questi giorni, probabilmente in occasione del Black Friday, quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto per quanto riguarda insuccesso o cose del genere, Red Redemption 2 è disponibile a 49,95€! E questo potrebbe portare a pensare, cazzo, si è già svalutato il gioco? Una cosa simile era successa, ad esempio, con No Man's Sky, mi ricordo. No Man's Sky si è svalutato pochissimi giorni dopo l'uscita, ma lì c'era un motivo. In questo caso non mi sembra esserci un motivo, quindi la risposta più ovvia è che sia stato fatto in occasione del Black Friday, cosa che è palese, in collaborazione però forse con Rockstar Games. Potrebbe non essere infatti una manovra attuata solo dai venditori di terze parti, potrebbe essere una manovra autorizzata, tra virgolette, da Rockstar Games, che quindi ha venduto a questi rivenditori il gioco a prezzi minori proprio in occasione dell'arrivo del Black Friday. E se è così, beh, questa è una vera manovra di marketing. Anche perché ho visto il gioco scontato su Instant Gaming, da uni euro e su Amazon e in chissà quanti altri store, quindi questo potrebbe portarmi a pensare quasi al 100% ad una collaborazione diretta con Rockstar Games. Ragazzi vi ricordo di seguirmi su Instagram, che dire, aspetto con ansia di poter giocare a Red Dead Online, vi ringrazio per avermi seguito finora, noi ci rivediamo, alla prossima!